Quante favole vengono raccontate ai tarantini e in particolar modo agli studenti tarantini circa l'università? Tantissime. Vado subito al nocciolo della questione. Mi trovo in Piazza Ebalia, a Taranto, proprio di fronte alla facoltà di medicina, sede di Taranto, Università degli Studi di Bari, scuola di medicina e chirurgia, sede di Taranto. Quante favole che sono state raccontate. Ricordo l'inaugurazione, era presente il premier Conte accompagnato da Emiliano, da Melucci, più volte Emiliano era venuto qui e ora scopriamo che la regione Puglia non avrebbe ancora stanziato i 53 milioni di euro per la facoltà di medicina di Taranto, come la stessa regione Puglia non avrebbe stanziato i 3 milioni di euro per la facoltà di scienze tecniche dello sport. Quindi questa inadempienza da parte della regione, da un lato può far saltare il quarto anno della facoltà di medicina, ma potrebbe creare proprio un danno per quanto riguarda proprio l'accreditamento presso il Ministero di questa facoltà. Perché ovviamente nel momento in cui mancano i fondi, nel momento in cui non si investe, è ovvio che poi hai un veto, un blocco da parte del Ministero. Dice, giustamente, se tu non metti a disposizione i fondi e non crei gli arredi, non crei le strutture propedeutiche, essenziali per lo svolgimento dell'attività, io non ti posso accreditare. Ma, ripeto, questa non è una novità, perché abbiamo visto anche questa facoltà, le difficoltà che ha avuto quando mancavano i fondi per i docenti, quando mancavano le aule, quando non avendo le aule si facevano i corsi a distanza, online, da Bari. Ma vi state rendendo conto che l'Università Taranto purtroppo è tutta una bufala? È ovvio che poi lo studente, vedendo un'offerta universitaria assolutamente insufficiente, cosa fa? Va in un'altra città, frequenta lì, si laurea e trova lavoro lì e non torna più a Taranto. Questo è il vero dramma. Dunque è a rischio il futuro di circa 60 studenti che frequentano la facoltà di medicina, ma la cosa che mi fa specie e mi fa davvero male, Taranto purtroppo capitale dei tumori, Taranto che viene flagellata dall'inquinamento, che dovrebbe avere una corsia preferenziale per quanto riguarda proprio gli studi di medicina, per cercare di riparare al danno, al disastro ambientale. Quindi dovremmo avere una facoltà di medicina all'avanguardia a livello nazionale, specializzata nelle problematiche, nelle patologie oncologiche. Dico per dire, ma la facoltà di medicina a Taranto dovrebbe essere un'eccellenza e quindi Taranto dovrebbe ricevere il supporto delle istituzioni e poi vediamo queste difficoltà, vediamo che dobbiamo elemosinare questi 53 milioni di euro appunto per la facoltà di medicina. Ma giusto per completare, non c'entra niente con l'argomento, guardate anche lo stato di degrado in cui si trova l'area, in cui praticamente chi ma ambiente amio da parecchi giorni non passa per pulire la zona. L'abbandono della facoltà di medicina, quello da parte della regione, purtroppo coincide anche con l'abbandono relativo alla vivibilità, alla invivibilità urbana della quale è triste protagonista e autrice l'amministrazione Melucci.